Una donna controllore è stata aggredita ieri sera a Salerno da due passeggeri su un bus. La vittima aveva chiesto il titolo di viaggio ai due uomini che erano a bordo del pullman. La dipendente della Sita Sud è stata aggredita mentre svolgeva il suo lavoro. Il controllore è impegnato sulla linea Salerno-Campagna, giunto con un suo collega presso Piazza della Concordia, dopo che il bus era partito dal capolinea di via Vinciprova, dopo le 20.15 alla richiesta di esibire il titolo di viaggio, è stato prima minacciato verbalmente e subito dopo aggredito fisicamente da due passeggeri. Sull'episodio è intervenuto il segretario generale Filt-CGL di Salerno, Gerardo Alpino. Questo è un segno tangibile di quanto sia diventato ormai pericoloso e difficile espletare il servizio di trasporto pubblico. A lei va tutta la nostra solidarietà. Questo è solo l'ultimo caso registrato in ordine temporale, che fa seguito ad altri episodi altrettanto gravi, quali minacce subite dai lavoratori, con bottiglie di vetro rotte e discussioni di ogni genere, che di fatto fanno rischiare la vita ai lavoratori.